Laura, vittoria soffertissima direi, però è una vittoria, è quello che conta. Sì, diciamo che oggi abbiamo sofferto un po', siamo stati un po' in difficoltà, però è importante vincerla, quindi oggi ce la siamo portata la vittoria per noi e questo è importante, andiamo alla prossima. Non era facile affrontare questa partita senza Alessia, però siete partite bene, poi invece avete un po' sofferto la loro battuta e la loro difesa, credo, no? Sì, sicuramente dal secondo set in poi abbiamo spinto un po' meno, loro hanno cominciato a spingere un po' di più, anche in battuta, poi noi facevamo un po' di errori in più, per cui ci tiravamo fuori un po' di nervosità, secondo me, però siamo stati lì, abbiamo spinto dall'inizio alla fine, la vittoria è quella che conta. Guerra 2 sarà un'altra battaglia in casa loro? Sicuramente, adesso comunque è una squadra che spinge, è una squadra che non ha niente da perdere, noi andremo là e proveremo a giocare una gara migliore di questa e vediamo. Quanti meriti ci sono dei vostri avversari, quanti dei meriti ha vostri? Sicuramente sarà una squadra che gioca a una quarta finale di playoffs, quindi sicuramente è una squadra che sa spingere, che sa giocare, è sicuramente il merito loro, che loro non hanno mai molato, ma alla fine la gara l'abbiamo vinto noi, perché di squadra abbiamo potuto spingere fino alla fine.